Nel weekend di sabato 8 e domenica 9 ottobre si terrà a Caltanissetta la quinta prova trofeo Italia regionale circuiti cittadini di karting, dove si prevede una notevole presenza di pubblico, tra appassionati del settore e tra persone che vorranno semplicemente guardare. Si prevedono otto categorie di prove lungo il tracciato cittadino, che misura 835 metri, che partirà dalla via Salvo d'Acquisto e toccherà le vie Aldo Moro, via Palmiro Togliatti e via Don Minzoni, dove nel piazzale andistante la scuola Don Milani ci saranno i box. L'evento è stato realizzato in collaborazione con il comune di Caltanissetta e la federazione Sicilia Karting, con la partecipazione dell'azienda nissena Criojam, che vedrà 80 piloti circa darsi battaglia all'interno del circuito cittadino rinominato per l'occasione la piccola Monte Carlo del Kart. È un evento fortemente voluto da tutti gli appassionati di questo sport, è una manifestazione desiderata da tantissimi anni, e finalmente grazie all'amministrazione comunale e alla federazione siciliana karting e siamo riusciti a svolgere al meglio una gara a carattere nazionale e regionale, quindi si svolgerà sia come trofeo Italia che prova di campionato regionale.